Sul nostro futuro mettiamoci la firma e lo slogan del piano di sviluppo del distretto produttivo Puglia Creativa. Il piano è stato illustrato da letta presso l'incubatore, presso la struttura del Future Center, con l'intervento di Vincenzo Bellini, presidente del distretto. Sul nostro futuro mettiamoci la firma e lo slogan del piano di sviluppo del distretto produttivo di Puglia Creativa. Ecco, in termini pratici e reali, quali i benefici? Noi stiamo cercando di far sì che la cultura e la creatività siano innanzitutto affermati e riconosciuti come un settore economico a tutti gli effetti. Successivamente, dopo aver superato questa prima barriera culturale, stiamo proponendo agli enti locali e agli enti pubblici, in particolar modo alla regione, ma anche ai ministeri, ma anche ai comuni, un sviluppo dal basso della cultura e della creatività, cercando di offrire come sistema imprenditoriale le soluzioni a quello che può essere lo sviluppo in questo territorio del sistema culturale che ha un'ottima capacità occupazionale, uno sviluppo, diciamo, per l'Europa 2020 molto importante. Quali per esempio i settori? I settori sono il cinema, la musica, il teatro, la danza, il design, l'artigianato artistico, piuttosto che le agenzie di comunicazione o l'architettura. Cerchiamo di mettere insieme 12 settori che prima di allora non si erano parlati per farli incontrare, matchare e soprattutto far nascere delle nuove sinergie che possano dare spunto a nuovi posti di lavoro, a un nuovo fatturato e quindi nuova ricchezza per questo territorio. Piano di sviluppo del distretto produttivo Puglia Creativa, Baroletta, qui illustrato presso l'incubatore. Sì, abbiamo voluto assolutamente portare il distretto anche a Barletta, più che altro nella provincia Barletta-Andreatrani, in quanto questa è una riunione, diciamo, di carattere territoriale. Il distretto produttivo Puglia Creativa è uno dei primi distretti, se non possiamo dire il primo, riconosciuto a livello nazionale e europeo. L'abbiamo presentato nel 2012 e la regione Puglia, diciamo che è appoggiato il distretto in questa forma di riconoscimento per una serie di professioni e professionalità che spesso vengono poco riconosciute. Anche il nostro territorio dovrà dare una vera e propria dignità alle professioni e aiutare anche la regione nel poter costruire, diciamo, quella che sono i prossimi finanziamenti secondo quelle che sono le esigenze dei nostri settori. Da Barletta per news24.city Floriana Tolve